Salve a tutti amici miei, oggi andiamo a preparare una lasagna a base di verdura. Abbiamo 5 o 6 carote, una milanzana, 2 peperoni, 2 cipolle e un pomodoro. Prendiamo un tegame, facciamo un filo d'olio e facciamo un soffritto di cipolla e carote. Io le carote qua le ho passate nel robot, potete tagliarle anche a pezzettini, essendo che sono tanti le ho passate sul robot così facilito il lavoro. Le metto nel tegame, metto anche le cipolle e do una mischiata e le lascio soffriggere. Poi intanto vado a tagliare tutte le altre verdure. Qua c'ho preso la cipolla, ovviamente l'ho passata anche lei nel robot. Se avete tempo potete anche tagliarle i dadini che vengono più belli, quando anche sono cotte rimangono anche intere, soprattutto le carote. La donna è mischiata, lo copro e vado a finire di tagliare le altre verdure. Qua ho tagliato le mie lanzane, anche loro a pezzettini, a quadratini. Le zucchine anche loro, non ve l'ho detto, ma perché lo lavate l'ultimo. E facciamo questa lasagna molto ricca di verdura, è diversa di quelle da carne. Viene anche questa più buona, magari lo facciamo saporire con il formaggio, o con il formaggio a quadratini, o con solo tiletti, dipende di quello che volete usare. Intanto qua ho tagliato tutte le verdure, adesso le vado ad aggiungere, poi devo fare anche il pepe, sale, tutte le spezie. Adesso ve le dico una dietro e l'altra, quelli che ho usato io ovviamente. Qua ho messo il peperone, io lo uso il giallo e il rosso. Le melanzane, le zucchine, mettete un tegame più grosso così perché le verdure, a parte che si abbasserà col fuoco, però non fatti come me. Poi mettiamo il sale, la curcuma, rosmarino, salvia, peperoncino e fogli d'alloro macinate. E mettiamo il pepe e anche un po' di zenzaro macinato. Diamo una mescolata a tutte le nostre verdure. lo copriamo e le lasciamo cuocere sempre a fuoco, un po', non troppo alto. Qua ho preso il pomodoro, ci ho messo un po' di sale e li metto di sopra. Lo copro e le lascio cuocere. Andiamo a preparare la bacimella. Qua ho il latte, la c'è moscata, il burro, sale e la farina. Qua ho fatto 50 grammi di burro e 5 cucchiai di farina. L'ho fatto andare e poi ho aggiunto il latte mescolando sempre bene così non ci vengono gli agrumi, viene una pastella liscia e buona. Vedete, io l'ho lasciata un po' liquida perché mi servirà per le lasagne. Qua ho già preparato con voi un'altra volta la pasta. Ogni 100 grammi ci metto un uovo. Per esempio, se abbiamo un chilo di farina, mettiamo 10 uova. Se abbiamo 400, mettiamo 4 uova. 400 grammi, mettiamo 4 uova. E quindi io l'ho già lavorata prima così non viene il video troppo lungo. Ho preso delle tellie le ho imborrate, un pochino di farina. Le preparo e preparo anche le tegame quella di la bacce mella e l'altra di verdura. Preparo anche il formaggio da graciugiare sopra perché qua io uso solo il formaggio grana quindi non uso altro. Qua ho fatto due meschi o tre di bacce mella vedete che è un po' liquida, non troppo densa. Ci ho messo la pasta. Anche la pasta è molto buona è fatta con le uova delle mie galline quindi è tutto naturale, tutto buono. Dona un pochino di formaggio, un estratto e poi metto un altro estratto di pasta poi le verdure la verdura è saporita solo con le spezie e basta, è molto molto buona si può mangiare anche così. Poi metto la pasta sempre verdura la bacce mella, formaggio fino all'ultimo strato e poi alla fine metto qualche nocciolina di burro di sopra così vieni con la crostina molto colorata, molto buona. l'ultimo strato ne ho fatto abbastanza formaggio io l'ho grattugiato sopra direttamente poi alla fine ci ho tagliato delle noccioline di burro sopra che ci danno questa croccantezza questa pattina di sopra che è molto gratinata e molto bella vado avanti finisco le verdure che ho faccio un'altra teglia l'imburro poi l'infarino e faccio gli stessi procedimenti che ho fatto prima sempre bacce mella, pasta e verdura continuo così fino alla fine della bacce mella e della verdura ho scaldato il forno a 200 gradi adesso finisco e lo vado a mettere su qua ho preso del formaggio quadratini poi l'ho tagliato di sopra adesso il forno è pronto le vado a mettere su a 200 grade ed eccole pronte belle gratinate molto molto leggere molto buone spero che vi piace il video e se vi piace lasciatemi un like iscriviti nel mio canale lasciate nel commento se anche a voi piace fare un po' le cose un po' diverse e se faccio qualche lasagna diversa con altre verdure altre cose scrivetemi nel commento così magari le proviamo insieme non mi rimane qui vi saluto e al prossimo video con un altro tutorial vi saluto e vi lascio con le foto ciao ragazzi